Amici di indiscreto, non crederete ai vostri occhi, cioè i messaggi pubblicitari davvero scritti così, cioè non c'è mai fine, veramente alla immaginazione di questi pubblicitari, guardate, guardate, guardate che c'è scritto, allora un menù con 25 brini a base di pesce, cazzo, sicuramente, certo, le donne che leggono, dicono, ma che scrivete? Ecco, mi sono fatta confusione quelle, mi sono fatta, la confusione è tutta fatta da donne, non lo so, scusate!